Ciao a tutti, sono Katia. Oggi vi faccio vedere come possiamo fare la maionese in casa in meno di un minuto. Andiamo a vedere cosa ci occorre per farla. Uovo da frigo, olio di semi di arachidi freddo, aceto di vino bianco e sale. Per fare la maionese in questo modo è importante utilizzare un brick di diametro poco più grande rispetto al frullatore a diversione. Andiamo a preparare la nostra maionese. Metto prima l'uovo, poi metto l'olio di semi di arachidi, l'aceto di vino bianco e il cucchiaino di sale. Questo è il passaggio più importante, bisogna stare fermi, qualche secondo. E voilà, la nostra maionese è pronta. Ho arrivato un momento più bello, il momento dell'assaggio. molto delicata. Se vi è piaciuta la mia ricetta, mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale. Comunque andrà, io vi vorrò sempre bene. Alla prossima ricetta! Ciao! 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 Ciao!